Salve ragazzi, sono Mattex e vi do il venuto in questo nuovo episodio della nostra carriera di attore con la Fiorentina quest'oggi partita molto molto importante, siamo allo stadio da Temio Franchi, siamo contro l'Arsenal per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, una partita molto molto difficile per entrambe le squadre l'Arsenal ovviamente deve cercare l'impresa per poter passare il turno, dato che l'andata abbiamo vinto 3-1 fuori casa nella casa dell'Arsenal, questo è il tabellone completo della Champions League dall'altra parte Juventus e Tottenham hanno vinto, l'Atletico Madrid ha vinto l'andata tutte 2-1 bisogna però ancora vedere perché ci sono ancora entrambi i ritorni da giocare anche quello dell'Atletico Madrid che giocherà in contemporanea con noi, nostra Fiorentina che deve assolutamente portare a casa la vittoria quanto meno giocherà di non subire almeno 3 gol di scarto perché con 3 gol di scarto l'Arsenal passerebbe il turno bisogna fare attenzione, l'Arsenal è una squadra molto molto forte, è una squadra molto interessante l'abbiamo già vista nella mia squadra, nella serie che ho portato quest'anno su FIFA 19 mi raccomando se l'avete ancora fatto andate alla recuperare, è una serie molto interessante bisogna però fare attenzione a questo Arsenal c'è Depay davanti, giocatore molto forte giocatore che sostituisce al momento Obama Young che probabilmente è in panchina già lo scorso episodio è stato in panchina però quest'oggi magari entrerà prima perché nello scorso episodio è entrato a poco più di un minuto credo dalla fine della partita e non è riuscito ad incidere, quest'oggi ovviamente vorrà farlo l'Arsenal però deve cercare di portarsi già in vantaggio almeno nel primo tempo almeno un gol deve farlo per poter pensare di passare il turno la Fiorentina cercherà ovviamente di impedire questa realizzazione intanto la foto di squadra di Vito della nostra Fiorentina la Fiorentina che cercherà ovviamente la vittoria tra l'altro mi avete consigliato ovviamente di portare Hazardi in campionato e Joe Felix in Champions League siccome però Joe Felix quest'oggi era un pochino troppo stanco ha omesso Kanjin Lee sulla sinistra questo ruolo inedito per lui perché abbiamo provato sulla destra ha fatto bene quest'oggi sulla sinistra e sulla destra c'è Momo Salah c'è Morata davanti l'Arsenal alla formazione più o meno come nello scorso episodio ovviamente c'è grande attesa per questa gara che comincia ora con il tocco di Morata appoggia dietro Kanjin Lee, Ramsey, Salah le finte prova a saltare tutto il centrocampo, Salah allarga per Pezzella che vede in profondità Morata, tutto sull'attenzione Morata Morata deve cercare di liberarsi da Holding, Morata appoggia dietro, Pezzella la palla rimane lì, Leno però para sicuro e controlla il pallone Osil cerca di amministrare bene il pallone Sergi Roberto servito sulla fascia destra allunga per Depay, crossi in mezzo, De Cespina, Zola palla fuori di tanto, questa volta sì l'Arsenal spreca un'occasione con l'ex Spinazzola, palla fuori Spinazzola salta molto bene Calabria crossi in mezzo per Depay, palla intercettata da Rugani ora Ramsey può ripartire, può far ripartire la sua squadra quest'oggi capitano della Fiorentina ormai ex dell'Arsenal Morata appoggia Momo Salah Momo Salah da uno sguardo in mezzo c'è Kanjin Lee, c'è anche Morata libero servito Morata, 1-0 Fiorentina passiamo in vantaggio uh che partita, uh che partita come si mette dura per l'Arsenal quest'oggi Morata è davvero molto molto propositivo gran cross di Momo Salah che vede Morata tutto solo pallone perfetto per Morata che buca la difesa e si inserisce alle spalle dei due centrali bucando poi la porta di Leno Guileno non è uscito, forse ha fatto un po' male a non uscire provato a parare, non ci è riuscito fa la spazzata da Daoud Kanjin Lee prova ad arrivarci, non ci riesce Daoud però recupera il pallone appoggia Ramsey prova ancora a instaurare il contropiede per la sua Fiorentina Daoud in profondità Morata non molla, Morata Kanjin lo prova a fermare Morata, Morata ancora Morata doppietta dell'ex attaccante della Chelsea dalla Juventus, dalla Madrid calcato grandissimi campi grandissimi stadi quest'oggi all'altremio Franchi porta sul 2-0 la Fiorentina e siamo 5-1 nel totale in questo momento l'Arsenal dovrebbe fare almeno 5 gol pazzesco pazzesco una partita veramente veramente messa molto molto bene primo tempo 2-0, quarto gol in Champions League per lui Morata supera Kanji e batte leno 2-0 Osil salta pezzella Osil prova a dare uno sguardo in mezzo non c'è nessuno prova a crossare per Torreira la Font in qualche modo Spinazzola lo appoggia Depay ancora la Font ora cerca un uomo libero trova Salah Salah appoggia per il solito Ramsey il Ramsey sta giocando una partita pazzesca Morata prova a saltare a Kanji ci riesce fino a un certo punto perché poi a Kanji lo recupera la partita finisce qui almeno il primo tempo primo tempo finisce qui l'Avitro Fischi alla fine della dei primi 45 minuti Morata avrebbe voluto dare qualcosa in più voleva cercare la tripletta Kanji però l'ha fermato dopo averlo perso per ben due volte riesce a recuperare lo buon primo tempo della nostra della nostra finitina che al momento è in semifinale di Champions League Neresh appoggia Depay Depay vuole l'1-2 con Neresh c'è la palla però arriva Michi italiana attenzione Calabria che intercetta con la spalletta ora Salah può ripartire con la sua Fiorentina Salah appoggia Ramsey attenzione perché sulla sinistra c'è Kanji lì servito lì Leno para ancora Neresh ormai manca pochissimo Neresh e Rugani lo ferma non lo ferma più nessuno Rugani finisce qui la gara finiscono qui quarti di finale per la nostra Fiorentina esultano i nostri tifosi e fanno bene perché siamo ufficialmente iniziano i finali di Champions League grandissimi grandissimi ragazzi abbiamo vinto una partita grandissima abbiamo fatto molto molto bene 2-0 qua 3-1 la non potevamo pensare meglio non potevamo desiderare di meglio inquadrato Morata l'uomo partita l'uomo della qualificazione perché serviva davvero qualcuno che potesse dare quel qualcosa in più alla squadra soprattutto davanti perché mancava veramente il sostituto giusto di Simeone perché Simeone è molto forte segna praticamente sempre però serviva quello che che riusciva a dargli il cambio perché Simeone ovviamente può far bene ma non può farlo sempre non può giocare tutte le volte perché comunque avendo 3 coppe rischia di di stancarsi poi troppo tra l'altro passa l'Atletico Madrid adesso giocheranno anche Juventus, Ramadri da Valencia, Tottenham e vedremo contro chi saremo nelle prossime semifinali tra l'altro vi anticipo questo che essendo essendoci qualificati per la semifinale probabilmente da qui alla fine della stagione andremo a episodi con due gare per ciascuno perché voglio voglio cercare di diciamo accentuare un po' la suspense per questo finale di stagione ovviamente cercherò di di fare episodi comunque non troppo corti non troppo lunghi però cercare di riuscire a fare due due partite episodio sarebbe il l'ideale perché almeno non ci troviamo con buchi a fine a fine stagione tra l'altro dobbiamo guardare i sorteggi che non arrivano io non voglio guardare spoiler non cerco di cerco di non leggere altrove ora prendono la pallina Fiorentina pescata la nostra Fiorentina andiamo a vedere contro chi saremo Atletico Madrid Tottenham Juventus Atletico Madrid Fiorentina due italiane su quattro in semifinale molto molto bene quindi sarà una sfida padre figlio ciolito contro ciolo sarà sarà davvero tutto da tutto da giocarsi sarà una sfida molto molto interessante tra l'altro dall'altra parte Tottenham e Juventus due nostre bestie nere perché il Tottenham l'abbiamo visto contro la nostra Fiorentina in finale d'Europa League l'anno scorso ci ha ci ha steccati purtroppo non siamo riusciti a vincere l'Europa League proprio per coppa del Tottenham mentre con la Juventus abbiamo sempre un po' faticato ogni tanto vinciamo ogni tanto perdiamo però è sempre una squadra molto molto intrigante prima però ovviamente bisogna pensare l'Atletico Madrid in questo episodio vedremo ancora la partita contro l'Atalanta in quello dopo vedremo probabilmente Roma e Bologna in quello dopo ancora l'Atletico Madrid e Sassuolo poi andremo a vedere l'Atletico Madrid Lazio e poi Napoli Roma per concludere il campionato poi ovviamente se dovessimo far bene in entrambe le competizioni potremmo avere due episodi con con le due finali però bisogna vedere ovviamente come andrà perché c'è ancora tutto da giocarsi partire da questa partita contro l'Atalanta vi do il benvenuto in questa nostra nuova gara di campionato questo già affrontiamo l'Atalanta l'Atalanta che ci pone davanti una grande squadra vuole ovviamente far bene però noi vogliamo far far di più noi vogliamo cercare ovviamente i tre punti perché dobbiamo ancora rincorrere il Milan che tra l'altro ha già giocato e ha già vinto quindi un pochino di pressione in più ovviamente io avrei sperato che Milan non avesse fatto grandi risultati però Milan ha più otto e dobbiamo assolutamente dobbiamo assolutamente recuperarlo dobbiamo far bene dobbiamo vincere assolutamente segnare tanti di quei gol da far impaurire il Milan perché dobbiamo assolutamente recuperarlo in qualche modo dobbiamo fare anche perché vi ricordo che il triplete su questo canale non l'abbiamo mai fatto quindi siamo alla ricerca ovviamente del triplete ci siamo sempre nati vicini abbiamo sempre perso qualcosa per strada Sturaro facciamo attenzione alla nostra squadra però Sturaro in mezzo velo di Simeone Hazard subito così 1 a 0 calcio champagne la nostra finitina ma cosa ha fatto Simeone? cosa ha fatto Simeone? pazzesco altro Sturaro grande azione in solitaria si ferma cerca un compagno in mezzo vede Simeone Simeone velo pala per Hazard è 1 a 0 partiamo molto forte bisogna però fare attenzione a mantenere il risultato perché spesso siamo andati in vantaggio e spesso ci hanno recuperati diamo qui sterzata di Sturaro chiaramente la palla in mezzo Simeone velo e poi Hazard tra l'altro Hazard me l'avete consigliato di mettere in campionato e lui cosa fa? gol nono per la precisione in questa serie a team per lui Rigoni cerca il cross in mezzo lo trova apre il vodi Wendel Pellegrini però attenzione perché ha atterrato Wendel quindi sarà calcio di punizione per l'Atalanta Ilicic dal punto di battuta prova Ilicic col mancino palla alta non impensierisce la brucia se l'altro qui Kerr era andato a posizionarsi vicino al palo però non è servito palla alta mi ancora mi palomino palomino attenzione perché sbaglia il passaggio palomino regala simeone 2 a 0 il ciolito simeone si è un po' gasato si è un po' gasato per la sfida con il padre questo oggi ovviamente vuole far bene vuole impressionare un po' tutti perché abbiamo visto Morata che ha fatto veramente molto bene in champions league lui però non vuole farci dimenticare che lui è l'attaccante con cui siamo andati in champions league con cui abbiamo fatto un po' la nostra la nostra storia la nostra della nostra Fiorentina la storia della di questo canale con il ciolito simone è diventato un po' l'uomo simbolo di questo di questo progetto palomino sbaglia il controllo lo ha provato poi a passare per l'altro centrale non è riuscito però 2 a 0 per la nostra Fiorentina Zagnolo parte in contropiede Zagnolo salta la centrocampista palla per Sturaro Sturaro tutto solo Sturaro 3 a 0 mamma mia che Fiorentina mamma mia che Fiorentina tra l'altro Zagnolo ha saltato probabilmente Wendel palla per Sturaro che non può fare altro che segnare assist sul primo gol e secondo gol un po' così così perché alla fine Simeone ha preso il pallone tutto solo per l'ora di palomino terzo gol di nuovo per mano di Sturaro questa volta però ci mette davvero lo zampino con il gol un altro gol l'ennesimo gol con la maglietta della Fiorentina tra l'altro non so quanti ne abbia fatti per l'esaltezza perché non ho più il taccuino dietro siamo a 4 gol in questa serie a team per lui il nostro numero 10 e pensare di portarlo anche in altre carriere perché non possiamo farne a meno Chiesa ha servito saltato Loi Chiesa ancora serve se Medo col Mancino Sportiello in calcio d'angolo un'altra occasione per la Fiorentina che ha provato ad allungare il vantaggio corsi in mezzo di Chiesa prova Simeone palla alta di poco l'arbitro finisce probabilmente in rimessa dal fondo perché l'arbitro non ha fischiato calcio d'angolo no ha fischiato calcio d'angolo scherzavo Chiesa dalla bandierina di nuovo crossi in mezzo per Hazard traversa io non son contento se non prendo un legno a partita a te burra vendela il tiro attenzione divido mamma mia palla fuori di parecchio si si fuori di parecchio però è un tiro pericoloso attenzione per la brucia sbaglia il passaggio serve Ilicic Ilicic tiro di Ilicic Kerrer in calcio d'angolo tra l'altro per i più pignoli comunque si ho sbagliato io passarla però dico a brucia per vedere le terrore della telecronaca a te burra crossi in mezzo per Musa Barrow palla intercettata attenzione perché Pellegrini Pellegrini rimane a terra attenzione Semedo Benassi la Fiorentina può installare il contropiede però è rimasto a terra giocatore dell'Atalanta palla per Hazard per il 4 a 0 Hazard Sportiello ancora impedirlo Barrow salta un uomo Barrow ancora l'appoggio per Barrow di nuovo ancora Musa Barrow Bruscia in calcio d'angolo uuuuh tra l'altro Barrow ha appoggiato credo per per Vido e palla però tirata poi da ancora da Musa Barrow calcio d'angolo ancora per l'Atalanta che vuole cercare il gol della bandiera dalla bandierina Pellegrini crossi in mezzo per Barrow intercettata Bruscia Jovetic può partire in contropiede Jovetic fermato ma non ci riescono i difensori dell'Atalanta Simeone salta Toloi Simeone prova a servire Jovetic fermato però questa volta da Palomino questa volta non sbaglia l'intervento fischia la fine di questa gara e di queste due partite di questo episodio perché appunto con l'arrivo delle semifinali di Champions League vorrei portare più episodi per cercare di appunto creare un pochino più di suspense per questa per questo finale di stagione perché probabilmente sarà l'ultima con questa Fiorentina ovviamente poi dovessimo andare a vincere qualche coppa da quella italiana a quella europea potremmo poi effettivamente ancora fare un pochino di calcio mercato estivo e aggiocarci poi le partite di Supercoppa però pensiamo al presente perché non abbiamo ancora vinto assolutamente nulla ma il nostro tripete potrebbe anche diventare al contrario con l'uscita dalla Coppa Italia contro la Roma l'uscita con l'Atletico e la sconfitta in campionato quindi non tiriamocela non pensiamo al futuro pensiamo alle partite di oggi tra l'altro partite contro la Roma nel prossimo episodio mi raccomando massimo supporto per questa serie per la prossima partita con un viaggio iscrivete al canale se non l'avete ancora fatto continuiamo con i nostri allenamenti direi di mettere Giacomo Costa abbiamo scenari difensivi esperto cerchiamo di portarlo di portarlo sempre più su cerchiamo di allenarlo sempre sempre al meglio ovviamente per dare sempre di più con la nostra con la nostra squadra anche se tanti giovani talenti magari non riusciremo neanche a vederli giocare in campo effettivamente essendo probabilmente l'ultima stagione dovremmo un po' accelerare i tempi con i giovani non riusciremo forse a vederli tutti in campo tra l'altro prossima gara Gio Felix titolarissimo in in Coppa Italia contro la Roma ripetiamo nel prossimo episodio vedremo Roma e Bologna in quello dopo vedremo Atletico Madrid e Sassuolo in quello ancora dopo Atletico Madrid Lazio in quello ancora successivo Napoli e Roma così da concludere tutti gli episodi a due partite per non averli troppo troppo spezzati come gare Milan più 5 e la prossima la gioca contro il Torino noi contro il Sassuolo facciamo attenzione tra l'altro UEFA Europa League me l'avete chiesta in parecchi queste sono le semifinali Borussia Mönchengladbach contro Benfica Borussia Dortmund contro Liverpool e ragazzi vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento sempre qui sul mio canale alla prossima con un nuovo video mi raccomando iscriviti al canale se non avete ancora fatto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao